SOS Isole Italiane in vendita a lanciare l'allarme è il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli e tra queste c'è anche l'isola di Cerboli nel parco dell'arcipelago toscano a sud di Piombino quasi all'imbocco del golfo di Follonica. Il coordinatore nazionale dei Verdi ha presentato un esposto al Ministero dell'Ambiente e dei Beni Culturali per segnalare gli annunci sui siti di agenzie immobiliari internazionali e nazionali con il quale si chiede l'immediato intervento per tutelare le isole italiane. L'isola di Cerboli che si estende per 4 ettari, un vero e proprio gioiellino è in vendita per 4 milioni di euro. Ma in vendita ce ne sono anche molte altre fra queste c'è il caso della famosa isola delle femmine a Palermo in vendita per 3 milioni di euro o dell'isola di Capo Passero in provincia di Siracusa dove partirà un progetto per la realizzazione di un resort. Poi c'è l'isola di Santa Maria di fronte Marsala nella provincia di Trapani in vendita per ben 17 milioni di euro. Venduto l'isolotto di Santo Stefano che ospitò le prigioni di Sandro Pertini. Mentre il demanio sottolinea di non avere nessuna isola in vendita, la vicenda però continua a tenere banco. Cerboli potrebbe essere comprata solo da uno sprovveduto come quello al quale Totò rifilò la fontana di Trevi nel film Totò truffa 62, quanto riportato in una nota a firma di legambiente arcipelago toscano. L'isola che fu dello scrittore Carlo Cassoli.